Sono a Napoli in piazza San Domenico, sono appena uscita dalla cappella di San Severo dove ho visto il Cristo velato, una meraviglia unica al mondo. È una splendida giornata, qui è tutto splendido, tutto meraviglioso, è un posto unico al mondo. Sono contenta che ci sono tanti turisti perché Napoli merita, sono contenta per i napoletani. Queste sono le mie amiche infreddolite, per loro sono delle temperature polari, per me si sta benissimo. Adesso mi accingo a mangiare una sfogliatella riccia e una sfogliatella frolla perché devo valutare. una tattullella e caffè e chi sta meglio è me. Sono molto contenta di essere venuta. E vi saluto, vi faccio buon anno a tutti. Buon anno da Napoli. Buon anno.